Il 13 e 14 maggio Sorrento ha ospitato la prima edizione del Forum Verso Sud, evento per lo sviluppo del Mezzogiorno. Organizzato dal Ministero per il Sud, la coesione territoriale e The European House Ambrosetti, ha coinvolto numerose alte cariche nazionali e internazionali. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Camera Roberto Fico e del Consiglio Mario Draghi. Con loro ministri e rappresentanti di partito, presidenti di regione ed esponenti politici del Mediterraneo allargato, il dialogo è partito dal libro bianco, documento che include un'analisi socio-economica del Sud Italia e un'agenda per il suo rilancio. Un Sud che si mostra già competitivo nel settore energetico, turistico, manifatturiero e dell'economia del mare. Nell'agenda, investimenti rivolti a infrastrutture green transition, fino ad una strategia comunicativa che ribalti la percezione del Sud Italia, evidenziandone le eccellenze invece che le mancanze.